Completare la vaccinazione con doppia dose per i cittadini over 80 nel giro di una settimana 10 giorni. E' questo l'intento ufficializzato dall'unità di crisi della Regione Campania in una missiva mandata a tutti i direttori delle ASL e degli ospedali della Regione. Proprio il governatore Vincenzo De Luca ha parlato dell'esigenza primaria di preservare una categoria così a rischio, mettendo in campo il massimo sforzo organizzativo, anche con la sospensione di altre attività. Una situazione davvero complicata, visti i ritardi nell'arrivo delle dosi e il sottodimensionamento del personale sanitario. Proprio attore del Greco continuano le lamentele. Ancora molti, i over 80, registrati sulla piattaforma regionale, che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Attualmente in Campania sono stati vaccinati 196.621 ultraottantenni, di cui 136.726 hanno avuto anche la seconda dose e hanno concluso il loro percorso vaccinale. In Campania, secondo i dati del censimento Istat 2019, gli abitanti dagli 80 ai 100 e più anni sono 304.317, di cui 908 ultracentenari. Grazie. Grazie a tutti.